Ciao a tutti e benvenuti su TokuRobot, canale dedicato all'animazione robotica fantascientifica giapponese e alle serie televisive di stampo Tokusatsu, Super Sentai e Kaiju. Oggi sono qui per raccontarvi una storia molto particolare e inedita presente in una serie di novelle scritte da Dan Tatsuhiko e con le illustrazioni curate dai Ken Ishikawa. Se non sapete chi sono Tatsuhiko, il cui vero nome è Tataki Kikuchi, è uno scrittore giapponese associato alla Dynamic Production di Gonagai che lavorò ad alcune novelle di personaggi nakaiani come Kyutiani e Violence Jack e Ken Ishikawa anch'essa associato a Dynamic e collaboratore di Gonagai che fu mangaka e creatore della saga di GetRobot. Questa storia di cui parleremo fu suddivisa in tre romanzi pubblicati poi nel 1998 da Kodansha e qui ho il terzo e ultimo volume che tratta la storia di cui parleremo in questa serie di video che a mio avviso è la storia più curiosa e interessante. Le tre storie in sé sono un crossover che collega i robot e i personaggi delle serie di Mazzinger Z e GetRobot e prende il titolo di Super Robot Wars, ma non ha nessun riferimento al videogioco di Van Presto. La prima storia ha il titolo di Mazzinger vs GetRobot, la seconda storia ha il titolo di GetRobot vs GetRobot e la terza e ultima storia ha il titolo di Mazzinger vs Mazzinger. La storia dei primi due volumi in sintesi è la seguente. Al laboratorio di energia fototomica si sta sperimentando un nuovo tipo di particelle con il dottor Yumi e il dottor Lionel. Questo tipo particolare di particelle però danno dei problemi e creano un varco dimensionale che risucchia Koji Kabuto, lo storico pilota del Mazzinger Z e Sayaka Yumi, la pilotessa del robot Afro-Ditea, mandandoli nel futuro. Un futuro fatto di robot giganti che hanno conquistato il pianeta Terra. A contrastare l'invasione di questi mostri viene una forza armata composta da donne con capacità sovrantulari e che consegnano a Koji una coppia del Mazzinger Z per combattere i robo-nemici e il loro comandante Shamrock. Koji scopre inoltre il sistema Majin Earth Mother che viene utilizzato dai nemici per raggiungere la Terra di quel futuro. Grazie all'aiuto di Miku, una delle ragazze della resistenza, Sayaka riesce a tornare indietro nel tempo e riportare in quel futuro il Great Mazzinger, Diana Venoseis e il Getta Robo-G. Dopo una dura battaglia il Mazzinger Z e il Great Mazzinger devono combattere con il mostro robot più potente, Galhan. I due super robot però scoprono con stupore che sotto la spessa armatura di Galhan vi è niente meno che il Grandizer, da noi Goldrake. Si scopre infatti che Galhan altri non è che l'imperatore delle tenebre di Micene della storia del Great Mazzinger che in questo futuro era riuscito a conquistare la Terra uccidendo Sion Flid, uno dei discendenti di Duke Flid che tentò di difendere il pianeta a bordo di Grandizer, Goldrake. L'imperatore riesce ad eliminarlo e a prendere il controllo del Grandizer contro i nostri eroi. Nella seconda parte del video scopriremo il piano finale dell'imperatore delle tenebre fino alla battaglia finale tra Koji e il nuovo Mazzinger contro il suo piacerimo nemico. Che dire quindi, restate sintonizzati qui su Toku Robot in attesa della seconda e ultima parte del video. Nel frattempo se vi è piaciuto questo mini video vi invito a iscrivervi al mio canale per altri contenuti. Un saluto e alla seconda parte del prossimo video. Ciao ciao! Grazie a tutti!